Ciao ragazze bentornate sul canale e buon 2020 a tutte Oggi condivido con voi quelli che sono secondo me i must have per questo inverno a tema moda e bellezza Sigla Bentornate sul canale e buon 2020 a tutte Come avete visto ho deciso di prendere un mesetto di pausa perché il dicembre 2019 è stato un mese molto impegnativo sotto vari punti di vista Quindi avevo proprio bisogno di staccare la spina per qualche settimana, di ricaricare tutte le energie per poi ripartire alla grande per questo 2020 con un sacco di idee nuove per il canale Quindi se per caso è la prima volta che capitate nel mio canale mi raccomando iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video e lasciate un pollice in su E vi ricordo che vi aspetto tutte quante anche nel mio account Instagram, nella mia pagina Instagram per seguirmi day by day E mi trovate come Elisabetta underscore pistone, trovate tutti i riferimenti, tutti i link nell'info box Vi ricordo anche che delle cose che citerò in questo video troverete tutti i più svariati link se li trovo nell'info box e nella mia vetrina Amazon Che dire, detto questo spero che il vostro 2020 inizi alla grande, vi auguro un anno pieno di soddisfazioni e di serenità che possiate raggiungere i vostri obiettivi Per oggi parliamo di cose così più frivole, che ci piacciono, ci rilassiamo assieme e condivido con voi quelli che sono secondo me gli oggetti capi da avere per affrontare l'inverno e questi mesi più freddi Iniziamo Un primo acquisto che ho fatto e con il quale mi ci sto trovando molto bene per l'inverno sono dei dolci vita, tra l'altro come quello che sto indossando in questo momento di intimissimi Che sono dei dolci vita a maniche lunghe, cashmere blend, che sono leggermente trasparenti ma che mi consentono anche di non indossare la canottiera Di indossarle semplicemente sotto un blazer come in questo caso o sotto magari un maglione pesante dolce vita Perché sono estremamente confortevoli anche a contatto con la pelle Vessono molto bene ma soprattutto, pur essendo così leggeri, tengono anche caldo È un mix di materiali molto vincente, tanto che ho deciso di prenderlo in più colori L'ho preso color crema, l'ho preso nero Lo trovate in varie nuance di beige e tortora È un acquisto che vi consiglio di fare perché li sto usando da qualche settimana e mi ci sto trovando davvero molto molto bene Il prezzo è di circa 29 euro, 30 euro e secondo me appunto vale la pena Li ho acquistati con i miei soldi, non sono sponsored da intimissimi, anche se mi piacerebbe Quindi è una cosa veramente must have che io vi consiglio di acquistare Un'altra cosa che non può mancare in inverno sono i dolci vita di cashmere Come dico sempre è meglio investire su pochi maglioni però di qualità Rispetto a prendere mille maglioni in poliestere e altri materiali che non sono proprio il top Anche se magari sono carini E secondo me trovate delle buonissime compromessi Per avere un cashmere di alta qualità senza spendere una cifra esagerata Da Uniqlo io infatti ho preso due maglioni, uno nero e uno color panna che sto sfruttando tantissimo Già lavati, rilavati, uno ce l'ho dall'anno scorso e la qualità è ottima E poi ne trovate anche su Amazon dove le taglie sono molto fedeli alle taglie italiane Ne ho preso uno blu, molto semplice però molto confortevole di cui vi lascerò il link nell'info box Quindi i maglioni, soprattutto dolce vita che è un capo tra l'altro molto elegante Secondo me sono veramente un must have per l'inverno Un altro must have che non potete proprio farvi mancare secondo me è il cappotto teddy bear coat Che lanciò Max Mara che forse possiede proprio quello più iconico I modelli più iconici che però insomma hanno un prezzo non accessibile a tutti Perché costano più di 1000 euro ma tantissimi brand, anche bei brand li hanno riproposti molto simili a prezzi più contenuti Ne trovate da 100, da 200, da 300 euro, magari ne trovate anche da 70, 80 adesso con i saldi Il mio è molto simile a quello di Max Mara ed è dell'anno scorso di Mango Lo sto sfruttando tantissimo e la cosa strana è che pur non essendo reale Nel senso i materiali non sono materiali particolarmente così buoni Tiene caldissimo ragazze, cioè è uno dei cappotti che tiene più caldo in assoluto E costava meno di 100 euro Non so se trovate esattamente il mio modello però ne trovate di simili a riproposti Zara Gli a riproposti Mango li trovate davvero in tutti i negozi Li trovate anche su Amazon, cercateli la mia vetina Amazon E sono dei cappotti che stanno andando molto di moda in questo periodo Di più anche delle pellicce E secondo me sono molto carini, sono molto portabili Sia per il giorno che per la sera I colori su cui vi consiglio di puntare sono il color marrone, quello classico, proprio Teddy Bear E poi anche il color crema o bianco Un'altra cosa che non può mancare d'inverno, che sono un classico, sono gli stivaletti in pelle o similpelle Se preferite neri, leggermente rialzati Sono il capo che io più compro e che più sfrutto durante l'inverno Quelli che indosso ultimamente li ho acquistati sempre su Amazon Trovate il link nell'info box E sono degli stivaletti defined, di una comodità pazzesca A me non piacciono gli stivaletti raso terra Mi piacciono gli stivaletti che siano un pochino rialzati Perché sono perfetti E slanciano la figura Sia che li indossiate con un paio di pantaloni dritti o a sigaretta Ma perfetti, perché no, anche con dei pantaloni a palazzo Che vanno portati quindi con un minimo di rialzo Non necessitate del tacco 7-8 cm Ma vi basta quel giusto tacchetto di 2-3 cm Che va a rendere la gamba un attimino più lunga E a creare, secondo me, un bello effetto anche più elegante Del solito stivaletto raso terra Che io personalmente non amo E appunto i miei li ho presi su Amazon Trovate il link nell'info box Ma comunque è uno stivaletto veramente comune Poi è il classico stivaletto che mettete con qualsiasi cosa Con qualsiasi abbinamento, anche con una gonna Con un vestitino di giorno, di sera Per andare in ufficio, per andare all'università È una cosa che assolutamente non vi può mancare Un'altra cosa che non può mancare, secondo me, nel vostro armamento In inverno è il color beige Che è un colore, secondo me, super chic Perfetto da scegliere per gli accessori Ma anche per i cappotti Per esempio il bianco e il beige in inverno Ragazze, è fantastico Una cosa beige che sto utilizzando tantissimo È questa sciarpa in pura lana Che si abbina col bianco, si abbina col nero Si abbina con tutto Che è stato un regalo di Ilaria Rodella Ciao Ilaria, qui mi mando un bacio Che mi ha regalato questo Qualche settimana fa, insomma E la sto utilizzando tantissimo Però, appunto, lei sapeva che sono un'amante del beige Io, infatti, ho una collezione Di cappotti beige nell'armadio Uno in particolare vi consiglio Ed è questo cappotto di Tara Germont Con i bottoni dorati Molto bello Mi piace il fatto che sia un pochettino oversized E quindi, visto che sapete che sono un'amante dei blazer Il fatto che sia oversized Soprattutto qui nella zona delle spalle Mi permette di indossarlo anche con sotto un blazer E di non rimanere, insomma, tutta stretta Con un cappotto beige Siete sicuri O comunque color cammello Siete sicuri di essere sempre chic In ogni occasione E alla fine è un colore che Sta bene un po' a tutte Quindi è un capo Che io vi consiglio di acquistare O fateci un pensierino per questo colore Che secondo me è un must have Per la stagione fredda In questo video, poi, ho deciso di inserire Anche un accessorio Che non è in realtà un must have Però lo chiamerei forse un trend Che sta andando tantissimo Questo inverno Ma sono sicura sarà un trend Che vedremo sempre di più Nel 2020 E che a me piace molto E sono gli earcuff Io, per esempio, ne sto indossando uno Che è della Capsule Collection di Rude Smil Creata da Valentina Ferragni All'inizio, quando l'ho visto nel sito Ho detto Forse è un po' troppo grande per me Invece poi sono andata in negozio Me lo sono presa Insomma, come regalo di Natale Questo in particolare viene 70 euro E è bellissimo Anche perché Non vi serve avere il buco, ragazze Per indossare questi earcuff Ma È fatto così Vedete Ha questa piccola levetta Che si apre Lo infilate tranquillamente nell'orecchio E poi lo chiudete E ne ho preso anche un altro Di Ale Iole Che invece è un brand Un po' più economico Nato a Barcellona Adesso non lo indosso Ma ve lo farò vedere In sovraimpressione E lo metto sempre qui Voi direte Ma la Pistons Con questi orecchini Un po' più così Particolari Non molto Sì Secondo me Sono molto belli Perché Danno Quell'aria Diciamo Soprattutto se avete un look Comunque sobrio Ed elegante Molto semplice Come il mio Come quello che credo di avere io Danno quel tocco Un po' più così Di Freschezza Frezzantezza Non so come dirlo Al look Cioè un po' più Un po' più Stile fighetto Cioè non so come Spiegarvi Però l'idea Di avere comunque Altri accessori Che diano luce al viso Non solo nel classico buco Ma anche sopra Che siano accessori belli Non piercing strani O cose Insomma Avete capito il mio stile Mi piace molto l'idea E Rude Smil Ha fatto Ha proposto questo Poi ce ne sono altri Che trovate sempre Tutto l'anno Ma in realtà Li stanno facendo Un sacco di brand Perché ho visto Che li potete trovare Anche da PM Monaco Che non costano Tantissimo Io vi consiglio Aliole Che è un brand Che ho scoperto su Instagram Mi ha consegnato Una ragazza su Instagram Mi ho provato a fare l'ordine E l'orecchino E l'orecchino è molto carino Ed è un accessorio Che soprattutto in inverno Quando magari abbiamo Di dolci vita basici O non ci mettiamo Un look particolarmente elaborato Particolarmente studiato È bello avere Secondo me Un tocco di luce Dato appunto Da questi ear cuff Si chiamano proprio così Oltre agli Orecchini standard Quindi Fateci un pensierino Perché secondo me Possono essere davvero Un'idea carina Per andare a Rendere il look Un po' più ricercato Un po' più luminoso E particolare Fatemi sapere ragazzi Se avete altri consigli Di must have O accessorio Capi di abbigliamento Che secondo voi Non possono mancare Nell'armadio Per questi mesi freddi Se questo video Vi è piaciuto E vi è stato utile Lasciatemi un pollice in su E iscrivetevi al canale E vi ricordo Che vi aspetto Sulla mia pagina Instagram Mentre nell'info box Troverete anche Tutti i link Di riferimento Delle cose che vi ho citato Delle cose che sono Riuscita a trovare Se per caso Vi domandate invece Questo blazer Dove l'ho acquistato L'ho acquistato su D-Pop Ralph Lauren Che è un brand Che sto davvero amando Sono fissata con Ralph Lauren In questo periodo Ho comprato tante cosine loro Cioè tante Il giusto Magari vi farò un video dedicato E questo è vintage Nel senso che Su D-Pop Trovate cose vintage O indumenti già usati Come sapete Sto cercando di Fare uno shopping Più consapevole Acquistare meno Ma di più qualità E anche cose un po' più ricercate Ho acquistato questo Poi ho acquistato un altro blazer Su Vestiar Collective Di Dior Insomma sto cercando Di acquistare delle cose Un po' più ricercate Un po' più sfiziose E già Già utilizzate Per non andare A inquinare ulteriormente L'ambiente Comprando Altro fast fashion Nuove cose Quindi ecco Su D-Pop E su Vestiar Collective Ultima chicca finale Del video Se sapete spulciare bene Trovate delle cose Veramente ricercate E graziose Come questo blazer O anche cose di altri stili Che magari vi possono piacere di più Io vi mando un abbraccio E ci vediamo prestissimo Con un nuovo video E ancora buon anno e un buon 2020 A tutte Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti